Ciao Davide, allora come sta cambiando l'utilizzo che le persone fanno degli smartphone? L'utilizzo sta cambiando in maniera radicale nel senso che smartphone sempre più potenti con sempre più banda e velocità disponibile fanno sì che i clienti usino tutte le applicazioni che utilizzano nel mondo della rete fisse quindi YouTube, Facebook e così via anche in mobilità con un consumo di banda che sta crescendo a ritmi vertiginosi e con vendite di smartphone che sono veramente impressionanti. Quest'anno stimiamo di vendere più di 13 milioni di smartphone come mercato italiano di cui addirittura il 20% già a 4G. Proprio per venire incontro alle esigenze dei clienti e presidiare questo mercato oggi è stato presentato un nuovo smartphone Vodafone, descrivici un po' questo terminale. Sì, Vodafone lancia un nuovo smartphone, Vodafone Smart 4G, un telefono 4G al prezzo di 199 euro in promozione fino a Natale. È un prezzo estremamente conveniente, molto molto accattivante perché il prodotto è assolutamente completo. È uno smartphone di fascia veramente alta con un display da 4 pollici e mezzo, un processore Qualcomm Snapdragon, quindi fra i più avanzati della categoria, 8 megapixel di camera e tutte le funzionalità tipiche degli smartphone. Un display estremamente fluido e un prodotto chiaramente brandizzato Vodafone, quindi con la qualità che Vodafone mette sempre nei propri prodotti. Un prodotto veramente eccezionale con cui siamo convinti incrementeremo ancora di più il numero di clienti 4G presenti sulla nostra rete e che potranno quindi usufruire della velocità e dei servizi 4G. Che numeri ha fatto il modello precedente di smartphone Vodafone e quali sono gli obiettivi per questa novità? Vodafone Smart Mini che abbiamo lanciato durante l'estate ha fatto dei numeri veramente, veramente importanti. Abbiamo superato i 300.000 pezzi di vendite e il prodotto è ancora commercializzato, quindi abbiamo anche traguardi più ambiziosi perché continuiamo a vendere il prodotto. Chiaramente questo prodotto che stiamo vendendo adesso ha un differente posizionamento di prezzo, però anche su questo prodotto abbiamo obiettivi molto molto ambiziosi di svarie decine di migliaia di pezzi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro.